ciao io sono leonardo e io sono carlotta e noi siamo i passi brothers benvenuti nel nostro canale questo è mio fratello ciao io sono 13 anni sto facendo adesso la terza media e se tutto andrà bene il prossimo anno andrà al liceo io sto facendo questo primo giugno corsi di attore sto facendo e andiamo alla linea a carlotta io ho 21 anni sto affinando il mio master degree in hotel management ossia in hotel e turismo e ci siamo trasferiti negli stati uniti circa cinque anni fa e noi faremo video di gaming cucina viaggi crescita personale e il nostro canale avrà video in tutti i tipi di lingue perché sarà fatto da diverse persone per esempio qui avremo il nostro gaming per il 90 per cento delle volte qui avremo la nostra cooking e traveling insieme al nostro anche miguel che non è presente oggi che sarà un personaggio aggiuntivo e farà la parte spagnolo e nel nostro canale saranno pubblicati tre video alla settimana il mercoledì il mercoledì e il venerdì quindi non te ne perdere neanche uno e soprattutto il prossimo e iscriviti al canale e sfonda la campanella